Offese alla magistratura, inneggiamenti al fascismo, simboli nazisti e altre frasi ingiuriose. E' questo il triste spettacolo cui cittadini si sono trovati di fronte questa mattina in piazza Aldomoro a Capannori. Presumibilmente in una delle notti dello scorso fine settimana alcuni vandali hanno riempito di scritte con una vernice spea in era, alcuni muri esterni del palazzo comunale e la recinzione del centro sociosanitario. Comune di Capannori che purtroppo non è nuovo a questo genere di trattamento. Infatti solo quattro mesi fa il municipio era stato bersaglio di un analogo gesto da parte di ignoti. Fermare la condanna da parte dell'amministrazione comunale che ha compiuto questo atto incivile dimostra di non avere alcun rispetto verso gli organi democratici del nostro Stato e di non aver compreso alcuni periodi della nostra storia, afferma il vice sindaco Luca Menesini. Questi vandali continua hanno arrecato un'offesa a tutta la comunità perché hanno colpito due edifici pubblici. La nostra amministrazione comunale che da sempre porta avanti iniziative concrete sull'importanza della legalità non può tollerare simili gesti. Affinché non si ripetano più è necessaria una forte azione educatrice da parte di tutti i cittadini e di alcuni istituti a cominciare dalla famiglia e dalla scuola. È solo grazie all'insegnamento dei valori democratici, conclude il vice sindaco Menesini, che possiamo realmente evitare spiacevoli episodi come questo.